La prospettiva è la costante, quella di dare seguito alla missione, al compito istituzionale che la scuola si prefigge e persegue. Sono passati nove anni, vuol dire che ormai il rodaggio è stato superato, ci siamo consolidati nel territorio, cerchiamo di erogare il servizio nel modo più adeguato possibile, tra mille difficoltà, considerando anche la tipologia della nostra utenza, che è un'utenza molto particolare, si tratta di adulti, italiani e nonno, si tratta di persone che hanno modo di ritornare a scuola e quindi l'intento generale è quello di incrementare i livelli di competenza della popolazione rispetto anche all'offerta formativa del CPA che abbiamo cercato di ampliare Noi abbiamo un numero assai consistente di iscrizioni, ad oggi siamo solo sulle sedie associate del primo livello, cioè del CPA, salvo e senza contare gli studenti che frequentano i percorsi delle scuole superiori, che una volta erano chiamati percorsi serali, siamo sui 1500 iscritti. Da notare che noi abbiamo le iscrizioni sempre aperte, soprattutto per la popolazione, per gli stranieri, perché per fluttuazione loro quando giungono in Italia hanno necessità di apprendere i fondamentali della lingua italiana e quindi di conseguire anche la relativa attestazione. L'organizzazione scolastica deve sistematicamente adeguarsi ai flussi di richieste che via via noi registriamo. La nostra utenza è vero che intercetta i flussi migratori, però molti dei nostri studenti sono coloro che già risiedono in Italia da tanto tempo, quindi non è esito di questa, diciamo, concomitanza, di questa circostanza temporale e che le persone, soprattutto gli stranieri, stanno comprendendo che acquisire competenze adeguate facili del loro processo di inserimento nel mondo del lavoro, nelle dinamiche sociali, eccetera. La nostra utenza, ripeto, è sì costituita da persone da neoarrivi, ma fino a un certo punto, perché molti dei nostri studenti sono persone che vivono in Italia da tanto tempo e quindi ormai sono in un certo modo già integrati nel nostro sistema.